A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vetes, cari amici guardate caldo, temperatura in aumento, l'anticiclone africano sta facendo davvero il suo dovere quindi avremo un weekend all'insegna del bel tempo, tempo estivo ovviamente solo nella notte tra domenica e lunedì di nuovo refoli freddi da est vento che si attiverà nei quadranti orientali e nella notte però tra domenica e lunedì ci sarà un temporaneo nuovo calo delle temperature ma intanto sabato e domenica temperature in aumento, piuttosto caldo, molto caldo, bel tempo, pochi disturbi, poche nuvole su zone alpine tra la Val d'Aosta e il Piemonte più settentrionale e qui avremo qualche addensamento nuvoloso ma nulla di particolarmente rilevante guardate le massime, saranno comprese tra i 24 e i 27, 28 gradi sulla costa, valori più contenuti ma più umido, fastidioso temperature invece nelle zone interne comprese tra i 28 e i 32 o 33 gradi centigradi, localmente anche 34 quindi abbastanza caldo Buon weekend cari amici di Retta 7, ci riaggiorniamo nel prossimo appuntamento meteo ma come detto godetevi questo weekend